17 alloggi per altrettante emergenze. Sono quelli che i comuni di Conegliano e Vittorio Veneto ristruttureranno grazie al contributo della regione. 850 mila euro che Palazzo Balbi ha deliberato arriveranno nella marca per un finanziamento complessivo nel Veneto di oltre 5 milioni di euro per emergenze abitative. L'emergenza della casa, il problema a casa è uno dei problemi principali nell'agenda del sociale perché ormai la casa diventa qualcosa di indispensabile e una vera e propria emergenza. L'edilizia residenziale si occupa appunto dell'edilizia popolare e questi 5 milioni che sono appunto arrivano da fondo ministeriale servono proprio per la manutenzione degli appartamenti che sono sfitti che in Veneto sono circa 3 mila in questo momento. Ne andiamo a recuperare 200 e quindi una grossa fetta per rimetterli nel mercato più che nel mercato a disposizione diciamo degli enti locali tramite le guardatorie poi sappiamo come succede per darle a chi ne ha bisogno. 400 mila euro per Vittorio Veneto per la ristrutturazione di 8 appartamenti, 450 mila invece a Conegliano per 9 alloggi da assegnare subito a chi ha più bisogno. Due comuni, altri due comuni ad alta intensità abitativa che andranno appunto a vedere riqualificati una serie di appartamenti da rimettere appunto nelle graduatorie. Questo mettendo anche a disposizione delle collettività il recupero di zone che molte volte sono zone degradate e quindi rappresentano anche dei problemi di insicurezza del coro urbano quindi io credo un doppio intervento, un intervento che va sicuramente a dare una risposta sociale a chi ha bisogno di casa ma anche a riqualificare delle zone che sono un po' abbandonate, fattiscenti, possano anche rappresentare dei veri e propri problemi da un punto di vista di sicurezza. Dalla regione una prima risposta ad un'emergenza in costante crescita. Ci troviamo di fronte ora non solo ai nuclei tradizionali che erano quelli di famiglie con bambini quindi anche famiglie numerose. Ora abbiamo molti casi per quanto riguarda i padri separati che rimangono senza una casa, a volte devono dormire in macchina. Abbiamo problemi legati ad anziani che hanno bisogno appunto di un appartamento a che non è agevolato perché altrimenti non ce la fanno arrivare a fine mese. Grazie.